Vediamo il primo esercizio, si tratta di eseguire degli skip a ginocchia alte. Mettete 4-5 ostacolini di 20-30 cm e poi fate tutto alla massima velocità per migliorare la reattività. Vediamo. Ripetiamo 4 volte con la gamba destra, 4 volte con la gamba sinistra, poi riposiamo 3 minuti prima dell'esercizio successivo. Ripetiamo 4 volte con la gamba.